buongiorno a tutte buongiorno a tutti ben ritrovati martedì 14 maggio 7 08 traffico ve lo dico già c'è traffico perché Elisa è arrivata correndo perché c'è un traffico pazzesco altezza l'orenteggio quindi aggiornamento in tempo reale in tempo diretta del traffico tangenziale altezza l'orenteggio traffico 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 vabbè voi come state come va come va 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 il nostro numero di whatsapp a cui potete scrivere mandarci tutto quello che volete per raccontarci un po la giornata di oggi oppure dirci cosa avete fatto ieri siamo a martedì insomma una settimana ancora davanti a noi per fare tante belle cose soprattutto portarvi un ombrello in giro perché anche oggi è prevista pioggia quindi anche oggi c'è la pioggia che arriverà sì questa pioggia che non si capisce bene se fa bene o no perché allora l'agricoltura e quelle robe lì la pioggia fa bene ma quando arriva in queste modalità cioè così tremenda forte quasi distruttiva non è che proprio faccia bene qui insomma anche oggi dalle tre l'ultimo aggiornamento che ho visto dava che mi dovrebbe iniziare a piovere intorno alle tre però non è che fuori sia proprio così bello quindi secondo me qualche cosa prima potrebbe anche succedere comunque questo è quanto per oggi martedì 14 maggio questo è good morning milano state ascoltando crystal radio e iniziamo appunto la nostra mattinata insieme tante notizie dai giornali tanti ospiti che ci raggiungeranno raggiungeranno qui in studio insomma il nostro menù è sempre ricco di piatti per farvi fare una colazione degna di questa città telenovela biagio antonacci ed è una telenovela oggi ne parliamo tanto e ve lo dico già oggi sarà uno dei temi di giornata perché trovo quello che è successo veramente assurdo sto parlando di rovazzi ebbene sì buongiorno signor fabio rovazzi come sta no non ce l'abbiamo qui perché se no se lo esse qui gli tirerei un po le orecchie perché rovazzi appunto ha confessato confessato ce l'ha detto apertamente ma non è niente che aveva detto ho inventato il furto in diretta per lanciare la mia canzone ma non sono pentito ho fatto la solita rovazzata allora a me le persone che parlano in terza persona o meglio che si danno questo sostantivo della rovazzata oppure quell'altro cioè come si diceva faccio una ranfata cioè anche meno cioè se usano quel termine gli altri va bene ma se lo uso io insomma non è proprio il massimo ok però vabbè insomma vedremo un po' come ma la cosa che mi sconvolge un po' in questa intervista che appunto abbiamo ci troviamo oggi sulla repubblica è che dice non sono pentito non ho fatto un errore non ho fatto una brutta figura ho fatto una rovazzata mi l'avrei chiamata con un'altra sempre finissima inizata ma con una qualche altra vocale davanti con un consonante davanti scusate dice che l'ho fatto per promuovere la mia nuova canzone maranza fatta insieme al pagante quindi insomma quello che ho capito è se anche il pagante ha simulato la rottura del finestrino della sua macchina però ha esagerato anche lui non so come dire anche loro ma è visto che parla dell'aumento dei furti a Milano cosa meglio di inventarne uno lo dico anche del testo mi hanno pulappato in corso como cioè appunto derubato allora prima di tutto non lo sapevamo del testo perché non è uscito allora io avevo avuto il dubbio dall'istante in cui ho visto il filmato nel senso che non ci credevo neanche morto che fosse reale quel furto troppo troppo non si sente neanche un uro non si vede neanche lui che corre dietro ma poi uno ti ruba il cellulare mentre sei in diretta a Instagram guardando nello schermo cioè adesso va bene tutto ma a parte di questo a un certo punto dice nella c'è un video anzi c'è un video che vorrei quasi quasi farvi sentire dopo lo faccio sentire in cui appunto racconta un po' perché l'ha fatto e come l'ha fatto ma soprattutto a un certo punto lui ha detto che insomma gli è sfuggita un po' di mano il discorso della stampa allora a me quando incominciate a dire mi sfugge di mano a quando gli hanno detto ah ma ci sono tutte interpellanze parlamentari anche la politica la domanda è solo che ha fatto scoppiare un cancan che ha interessato anche la politica visto che tra un mese si vota per l'europea e il tema sulla sicurezza è sempre assai forte così chiede il giornalista di repubblica rovazzi dice questo mi dispiace sì alla politica confesso di non aver pensato scusa cioè tu sei uno che fa marketing che vive sui social che fa tutto non pensi che fa un mese ci sono le elezioni politiche e soprattutto ci è sfuggita di mano la stampa cioè no ecco questo è a me quello che fa arrabbiare e ve lo dice uno che vi ricordate io ho difeso ad esempio we road quando ha fatto il cartellone se vuoi andare in vacanza su mclaxon anche lì cartellone geniale dal punto di vista marketing ma anche lì ho detto lasciatelo su 24 ore non una settimana che poi dopo la gente si incazza e infatti quello che è successo anche qua l'idea poteva essere interessante la fai dopo tre ore dici guardate che è per il mio disco ok e ci sta tanto in tre ore fai venire su un putiferio comunque ma si 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 calma tutto quanto nel senso invece no si va sempre avanti a fare queste cose proprio la città si incazza e vabbè chissà invece il traffico com'è anche quello ci fa arrabbiare I Cure con Lullaby alle 7.21 minuti Crystal Radio Good Morning Milano continuo a voler parlare del caso Rovazzi perché lo trovo veramente assurdo ma prima andiamo invece con i Whatsapp che comunque poi parlano anche di questo perché diamo il buongiorno ad Alberto che al 3317853555 ci scrive in attesa delle piogge un saluto al direttore Fabio che ci tiene compagnia e ci informa tutte le mattine e un saluto a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Milano è vergognoso usare il problema dell'ordine pubblico e degli atti criminosi in città per farsi pubblicità il rischio emulazione emulazione anche nelle canzate è proprio quello che ci manca ebbene sì infatti poi adesso rischio che qualcun altro si inventi cose il problema è che si alza sempre l'asticella di queste cose qui e poi dopo io rischio che l'emulazione oppure adesso no se quello ha fatto quella roba di marketing io ne invento un'altra e faccio esplodere una macchina cioè nel senso concetto è quello perché attenzione poi le cose di marketing virale guerriglia marketing come viene chiamato ci sono ed erano belle quando c'era la macchina distrutta in mezzo alla strada il sottomarino che era uscito cioè sono cose fatte da grandi aziende grandissime agenzie di marketing fatte bene che fanno parlare di sé che danno un momento anche in città di curiosità e tutto queste cose non funzionano così ma quello che io trovo assurdo sono poi sempre le scuse cioè non sono pentito ho fatto una rovazzata queste modalità qui in poche parole che trovo veramente veramente un po' assurde oserei dire cioè non ci credo che uno come rovazzi non pensi alle conseguenze delle sue azioni invece anche perché lo fai proprio per quello cioè quello che a me fa un po' specie è che tu lo fai proprio per le conseguenze delle tue azioni o un'azione del genere cioè non la fai così tanto per la fai perché sai che farà parlare di sé e allora non puoi dire poi non mi aspettavo non pensavo insomma no non ci credo eccomi ragazzi scusate l'assenza volevo innanzitutto ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato e diciamo lato stampa è un po' sfuggita di mano la cosa però ci tenevo a tranquillizzarvi soprattutto perché era tutto finto ciao a tutti qui è Giovanni è un bravissimo ragazzo e abbiamo fatto tutto questo perché domani a mezzanotte esce Maranza siamo domani c'hai capito domani esce Maranza cioè oggi esce Maranza e quindi allora lato stampa è un po' sfuggita ma cioè è quello che volevi però Fabio dai non è che non mi puoi dire che è sfuggita dai la volevi va bene dillo e tutto la cosa che mi fa un po' sorridere è che poi inizia un tantam che anche qua apri il cielo perché arriva anche l'assessore Maran so che se mi parco un dicio non potrei però ne devo parlare perché è fatto di cronaca falso furto a Fabio Rovazzi l'assessore per Francesco Maran dice che bella trovata di marketing e se ti facessimo causa per danno d'immagine bravo bene Maran gettiamo benzina sul fuoco cerchiamo di ok sta così ma poi su X dice di più dice che c'è lo qua l'X Twitter di Maran dice ma che bella trovata Rovazzi anche noi milanesi potremmo avere un'idea divertente di marketing nel farti causa per danni d'immagine e simulazioni di reato anche perché troppi VIP tra virgolette ultimamente stanno facendo pubblicità simulando reati qua anche questo è interessante vorrei capire chi sono questi altri VIP che secondo l'assessore Marano che sa non dico che non sia vero anzi ma probabilmente è così però non lo sapevo vorrei sapere quali sono questi questi qua questi altri VIP che hanno simulato reati in città e che giustamente io lo capisco fa bene ad arrabbiarsi però adesso minacciare una denuncia per danni d'immagine simulazioni di reato insomma anche meno anche meno ragazzi The Code Nemo con The Code il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024 torniamo ancora sul tema però Rovazzi del finto furto l'avete visto il video in diretta che veniva derubato del cellulare durante una live di Instagram poi dopo ha confessato ieri ha dichiarato ieri che era tutto inventato per fare appunto pubblicità al suo nuova uscita del nuovo disco che uscirà questa notte a mezzanotte insieme a Il Pagante che si chiama Maranza e quindi parla anche di questo ma soprattutto gli dice eh noi hanno un aumento dei furti in città bla 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 e quindi ho fatto questo pezzo per quello nel giorno in cui Piantedosi dice i reati a Milano diminuiti del 6,7% nei primi mesi dell'anno ma un problema sicurezza c'è mi piace questa cosa qui questo tema qui è veramente uno dei temi più assurdi del mondo secondo me nel senso che il tema sicurezza è un tema quasi impalpabile nel senso che la sicurezza è una cosa i furti e reati sono un'altra in che senso vado a spiegarvi la sicurezza è quando io mi sento sicuro e allora se io anche se non ci sono reati ma c'è un problema di percezione di sicurezza che quindi la mia Elisa che esce di qua e attraversa la via Novara si sente in pericolo mentre va alla metropolitana è un problema ok che ci sia o no un reale problema di sicurezza il problema è che se i cittadini non si sentono sicuri il problema di sicurezza esiste ma quindi cosa fare mettiamo militari mettiamo polizia mettiamo no non è quella la risposta la risposta è cercare di far capire ai cittadini cosa è reale cosa non lo è e parlare di sicurezza in maniera trasversale bipartisan non polarizzata non è colpa di questo è colpa di quell'altro è colpa del governo che non vi manda i poliziotti è colpa degli immigrati che arrivano qui perché poi queste sono le fazioni quando molto più in mente la colpa non sta in nessuna delle due cose ma sta in un problema culturale anche nostro del vedere sempre solo la pagliuzza nel nostro occhio e quindi ovviamente ci mancherebbe se ti rubano in casa è ovvio che dice che la città è insicura ma è normale che dici questo sta alla politica che noi distrattiamo sempre facciamo finta che non esiste ma esiste in tutte le cose che facciamo in quei benedetti like che mettiamo su facebook noi in quel momento facciamo politica è un atto politico mettere un like condividere qualcosa smettiamo di dire che la politica è tutto schifo perché non è così non è quello la politica è sacrosanta funziona deve funzionare la nostra vita tutti noi dobbiamo fare politica tutti i giorni poi un altro discorso è mi iscrivo quel partito voto quell'altro il candidato quello ruba quell'altro fa bene quell'altro fa male quello è un altro discorso ma fare politica significa fare delle azioni nella propria vita per cercare di arrivare ad un obiettivo finale da una parte dall'altra ognuno ovviamente mira a quello che più aspira senza magari passare sopra gli altri e allora non possiamo aspettarci invece che arrivi la fata della sicurezza con la sua bacchetta magica e sistemi tutto perché la fata della sicurezza non esiste siamo noi in primis che creiamo la sicurezza o no di una città siamo noi in primis che se ci giriamo dall'altra parte succede qualcosa rendiamo questa città insicura siamo noi in primis che se smettiamo di vivere la città di sera di vivere i parchetti di portare i bambini di uscire con le ragazze di uscire con i ragazzi di uscire con gli amici rendiamo questa città insicura la città sicura è la città che noi viviamo e quindi cerchiamo di viverla non con la movida non perché poi questo è il problema no allora facciamo l'happening no non con quello viverla normalmente uscire viverla vivere 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 la città perché ripeto la fata della sicurezza non arriva e se siamo qua a aspettarla campacavallo tali tali dal Lussemburgo Eurovision Song Contest 2024 con Fighter ricordiamo sempre nella produzione di questa canzone agli arrangiamenti e alla parte musicale Dardust l'italianissimo Dardust anche lui che ha scritto anche la parte musicale di Angelina Mango con La Noia continuo a parlare però appunto del tema sicurezza perché torno appunto su questo articolo di Repubblica che dice appunto piante dosi i reati a Milano diminuiti del 6,7% nei primi mesi dell'anno ma un problema di sicurezza c'è vertice con capo della polizia questore e prefetto dopo l'aggressione al poliziotto e il ferimento di un immigrato poi dice sui CPR abbiamo una posizione molto articolata e qui è venuto giù il mondo perché l'idea di aprire un nuovo CPR a Milano non piace a molti e non piace neanche a sottoscritto se devo dirla proprio perché un altro lager in città anche no grazie nel primo trimestre 2024 il numero totale dei delitti commessi a Milano registra una diminuzione del 6,7% a fronte dello stesso periodo del 2023 è uno dei dati emersi durante la riunione che il ministro dell'interno Matteo Piantedosi questa mattina cioè ieri mattina ha tenuto in prefettura a Milano con il capo della polizia Vittorio Pisani il prefetto sgaraglia il questore Petronzi e anche i vertici territoriali delle forze dell'ordine l'incontro arriva dopo due episodi che conosciamo bene il ferimento dell'agente di polizia Cristian Di Martino alla stazione di Lambrate mentre cercava di fermare e anche qui le parole sono fondamentali però perché c'è quello da dire mentre cercava di fermare un richiedente asilo che stava tirando a sassi ai treni domanda cosa cambiava se non fosse stato un richiedente asilo e lanciava sassi ai treni perché questo è il tema cioè il tema non è essere buonisti il tema non è dire tutti gli immigrati sono buoni venite qua portatevi la casa vostra non è questo il tema il tema è che non è notizia questa sottolineare il fatto che fosse un nuovo richiedente asilo non cambia niente io sfido a trovare altri 30-40 persone che avrebbero uguali cioè lo scemo o il cretino o il delinquente non ha passaporto e questo qui lo voglio sempre dire cioè è uno che può arrivare da qualunque parte del mondo e da qualunque situazione tant'è che poi le risse vengono fatte davanti a discutere con i figli della Milano Bene ad esempio non è che sono ecco però quello non è un problema cioè quello non è un problema di sicurezza capito la sicurezza è invece quando c'è sempre di mezzo un immigrato e su questo tema io mi arrabbio perché non ripeto non perché sono amico degli immigrati perché che bello venite tutti qua in Italia c'è posto per tutti non è quello il tema il tema è che uno come è già stato nella nostra storia quindi attenzione sempre a fare questi distingui perché poi prima o poi saremo noi a dover prendere il gommone e andare da qualche parte da prendere la panda 4x4 e andare da qualche parte ok magari non col gommone ma facciamo le alpi ad esempio quindi attenzione questo in più l'altro è stato un ferimento di un immigrato immigrato in stato di agitazione vicino a una stazione centrale colpito alla spalla con un colpo di pistola da un agente di polizia anche qua abbiamo dovuto sottolineare il fatto che fossi immigrato in stato di agitazione non una persona ubriaca che va a stare a scrivere così oppure una persona alterata che va a stare a così no dobbiamo segnare che è immigrato perché ma perché è ovvio perché è ovvio che sono di più immigrati che ovvio sono di più quelli messi in situazioni di disagio e quindi è normale cioè noi altri siamo belli sereni più o meno perché poi qual è il problema noi potremmo stare belli e sereni nelle nostre case al calduccio al frescuccio dipende se abbiamo il condizionatore o no ma i giornali ci riempiono di queste notizie e quindi l'agitazione sale la paura sale l'insicurezza sale e quindi si chiude tutto il cerchio una città che potrebbe essere molto meno insicura di quello che è che poi è una città una metropoli come Milano è normale che sia leggermente insicura come dire diventa ancora più insicura franco battiato con la cura good morning Milano sempre qui su cristal radio 33178535555 non sono modi whatsapp potete scriverci e condividere con noi quello che state facendo questa mattina o entra anche voi sul tema sicurezza che voglio continuare a sviscerare perché l'intervista di Repubblica al ministro Piantedosi a un certo punto Piantedosi dice anche un problema sicurezza a Milano c'è ma la polizia riesce a gestirlo capite la frase che non ha come viene un colpo al botto e un colpo al cerchio perché tu devi dire diciamocelo allora diciamocelo da una parte ti serve che si dica che la città sia insicura perché così almeno le elezioni vanno meglio dalla tua parte dall'altra ti serve però dire anche che la polizia è brava perché se non puoi dire tu ministro di Inter non puoi dire che la polizia sono incapaci di fare il loro lavoro quindi non puoi dirle questa cosa qua e quindi dice dobbiamo dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte dobbiamo dire che sì il problema sicurezza c'è ma la polizia riesce a gestirlo ma se la polizia riesce a gestirlo allora il problema sicurezza non c'è più nel senso o meglio c'è ma appunto è gestito quindi non perché deverlo dire in questa maniera le parole sono importanti le parole sono davvero importanti tanto che quando poi gli viene fatto notare che ogni tanto forse la detta grossa contro alcuni sindaci Piantedosi dice mai accusato i sindaci di avere colpe sulla sicurezza nella città il ministro ha anche negato di aver accusato il sindaco Sala sulla sicurezza Milano mai fatto trovate una mia espressione verbale che lo affermi credo che se ci saranno i presupposti di una buona sinergia istituzionale anche con il comune e le amministrazioni territoriali i risultati maggiori si vedranno in tempi più veloci ma guardate che giro qua ma anche sui CPR sui CPR lui dice a un certo punto sui CPR abbiamo idee articolate articolate scusate nel capologo Lombardo lavoreremo per migliorare sicuramente il sistema della logistica a supporto del meccanismo delle espulsioni cosa vuol dire? vi giuro che non l'ha capita questa frase cioè come se i nostri quelli là famosi che avevano fatto gli altri lager dicevano no cercheremo di come era che dicevano di sistema troveremo miglioreremo la logistica al supporto del meccanismo della polizia capite che c'è quello nel senso le frasi attenzione le parole le parole hanno il loro peso le parole sono importanti cioè sono frasi veramente che lasciano che da una parte fanno sorridere ma che dicono avete detto tutto e niente ma che in realtà tra le righe potrebbero avere dei risvolti molto 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 più pesanti di quelli che possiamo pensare è veramente un tema davvero complicato Milano ha già un CPR ricordiamo il centro di permanenza per il rimpatrio che sta in via Corelli un luogo dove un non luogo dove davvero i diritti umani sono violati un giorno sia l'altro pure praticamente e non lo dico io lo dicono le carte le carte della magistratura le carte del garante dei detenuti lo Stato stesso si dice che quel posto è uno schifo ma lo tiene aperto ma anzi ne parla di aprirlo un altro cioè cerchiamo davvero di capire che città vogliamo e signor Stindaco so che non è lei a dover decidere se aprirlo o non aprirlo ma dire fortemente che lei è contrario all'apertura potrebbe aiutare cosa che invece non ho mai sentito anche questa cosa qua nessuno ha mai alzato la voce delle istituzioni milanesi di un certo livello dicendo no noi non lo vogliamo e faremo di tutto per non averlo poi non potete fare certe cose lo sappiamo benissimo però già dirlo già far capire da che parte stare insomma interessante il solito discorso far capire da che parte stare della storia secondo me è sempre molto importante Bon Marley Could You Be Love 808 questo è il Crystal History di oggi di oggi martedì 14 maggio e beh arriva anche un Whatsapp al 331 7853555 dicendo grande Bon Marley a San Siro aleggia ancora la sua presenza dal 1980 eh sì 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 pensate che io per pochi giorni non ho potuto vedere quel concerto perché sono nato pochi giorni dopo quel concerto ma pochi giorni prima del concerto di Bennato quindi sono nato proprio tra il concerto di Bon Marley e quello di Bennato che avveniva appunto nel luglio del 13 giugno luglio del 1980 diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi anzi alle nostre ospite di oggi Eva Amos buongiorno Eva buongiorno Fabio e buongiorno a Giorgia Boli buongiorno benvenuta buongiorno grazie per l'invito grazie a voi di averci dato il nostro invito Eva se sei qui significa che c'è in arrivo una nuova mostra firmata Eva Amos no? giusto e allora Art Space appunto ritorna in mostra dove, come e con che cosa questa volta allora domani cioè il 15 maggio abbiamo inaugurazione della mostra della quinta edizione di Ambient Arti cioè la mostra dedicata alla difesa dell'ambiente quindi già la la quinta mostra sulla sulla natura sulla difesa quinto anno quinta edizione tema appunto diciamo l'ambiente beh tema sempre molto caldo in questo momento soprattutto anche visto il sovroscandamento globale ma come sempre hanno risposto da praticamente ovunque giusto Eva? esatto da diverse parti del mondo questa volta abbiamo tantissimi artisti dalla scandinavia a svezia a norvegia a finlandia e siamo molto contenti e anche da Giorgia dove vieni tu? io sono proprio milanese ecco io anche giustamente da Milano milanese figlio di Brambilla per cui è proprio un più semiglianese in scena non si poteva perfetto Giorgia tu appunto sei uno delle quante artisti 40 artisti dei 40 artisti che appunto espongono in questa quinta edizione di ambientarti che cosa porterai che cosa hai pensato portare? allora porto un quadro forse sull'autodifesa dell'ambiente perché il mio quadro si intitola il vento ci porterà via sull'autodifesa dell'ambiente sì perché io penso che in qualche maniera la terra l'ambiente quello che ci circonda troverà sempre la maniera di sopravvivere ma l'uomo è un po' sciocco e in realtà è l'unico che distrugge il suo habitat tu dici la natura è resiliente di suo quindi ce la farà la natura è resiliente di suo e poi la natura non ha stereotipi non deve apparire bella deve essere utile la prova è non so se avete visto le immagini ad esempio della zona di Chernobyl dove ormai non c'è più l'essere umano dove l'essere umano non mette più piede lì la natura nel giro di pochissimi anni si è ripreso tutto quanto senza nessun problema e proprio vive serena vive serena senza di noi come dire esatto esatto cioè questa era la mia idea ed è quello in realtà che dico anche spesso ai miei figli cioè quando si trovano le carte per terra o qualsiasi altra cosa che dico le raccogli per te non le raccogli per la bellezza per l'ordine per la pulizia le raccogli per te e beh questo è il tema dell'ambiente viene declinato in 40 artisti con tante opere che che opere arrivano ci saranno in mostra tutto domani allora la maggior parte come sempre sono le opere pittoriche c'è la fotografia e ci sono anche delle sculture questa volta abbiamo un po' di scultori quindi molto interessante questa cosa e inoltre tutta questa arte abbiamo diversi eventi durante durante il vernissage ci sarà la performance di danza dello studio di danza l'etuale di l'area e chinello ci saranno delle ballerine che venissage che avverrà domani giusto no? a che ora? dalle ore 5 fino alle 8 e mezzo presso la galleria Bart diciamo bene dove è la zona sud di Milano giusto la bar vicino Corbetto Fransone Prada quella zona lì per intenderci giusto ma allora dopo ci racconti bene invece che cosa succederà appunto davanti al vernissage perché non ci sarà solo le ballerine ci saranno tante altre cose tra cui anche Evamos che sarà lì e tutti gli artisti perché sono sempre tantissimi poi gli artisti che appunto vengono al vernissage a presentarsi e quindi potete anche incontrare gli artisti davanti alle loro opere anche magari fare qualche domanda andiamo con un po' di musica e poi torniamo appunto qui a parlare della quinta edizione di Ambientarti domani appunto ad Abarth a Milano Di sole d'azzurro con Giorgia Giorgia che abbiamo qui in studio Giorgia Bolli non ho la stessa voce non ho la stessa Giorgia avranno notato anche gli ascoltatori ma l'abbiamo messa proprio dedicata a te grazie mille la nostra Giorgia Bolli appunto artista pittrice ma mi dicevi hai avuto anche un passato da illustratrice allora io ho una formazione molto classica perché ho fatto il liceo artistico e tra l'altro l'ho fatto senza saperlo nel miglior liceo artistico sicuramente della Lombardia ma credo anche di un buon pezzo d'Italia che è il San Giuseppe a Monza ok dalle suore bene e poi ho fatto l'istituto europeo del design nel dipartimento proprio di illustrazione una delle poche che lo chiamano istituto europeo ma non ho detto tutti lo tagliano no no giusto 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 tutti lo tagliano invece giusto ricordiamo che insomma è l'istituto europeo del design non ha scuola qualsiasi sembra un'altra cosa sembra un'altra cosa sembra una cosa più seria effettivamente che chiamano semplicemente YED ho iniziato a lavorare quasi subito prima da freelance poi in questo studio che faceva grafica grafica su dei prodotti di largo consumo e poi a un certo punto avevano bisogno di un'altra persona io ho chiamato un'amica che aveva frequentato lo YED insieme a me e insieme abbiamo formato la modi artistici per anni abbiamo lavorato con tante case editrici con la di Agostini per i cartelloni pubblicitari la maggior parte del nostro lavoro erano le guide mondadori che le facevamo tramite uno studio che le aveva in gestione per cui con tutti gli spaccati le cose di questo se ne occupava principalmente la mia ma facciate con quei disegni semi tecnici dove spaccava cioè le cace con le robe di questa cosa sì pazzesco bellissimo tra l'altro a volte con con un'iconografia poverissima per cui mi ricordo una guida della Sardegna che abbiamo fatto da foto in bianco e nero per cui lo spaccato della chiesa lo spaccato del paese la mia socia che è Nadia Viganò che lavora ancora come illustratrice è stata era bravissima precisissima poi con tutto l'acquarello secco per cui con questi pennellini 0-1 wow e Giorgia quando è che poi sei passata invece alla pittura e alla tua arte diciamo non più con degli altri degli altri ho avuto un primo figlio con il primo figlio è andato tutto liscio ma lo portavo avanti indietro così il secondo mio piccolo è nato con delle problematiche per cui in realtà anche a un certo punto anche nel mio primo perché il mio primo ha un disturbo dell'apprendimento e quando hai figli con i DSA ti si apre un mondo di guerra per cui terapie genoterapia logopedia neuropsichiatria tutte queste robe qui perché poi entri in un circolo che è infinito il lavoro a Milano calava un po' anche perché Milano non è meritocratica su certe cose è una città difficile è una città difficile specialmente nell'ambito artistico perché tutti gli anni sia dall'istituto europeo che da Brera che da architettura arriva chiunque adesso anche dai corsi di domestica per dirti escono centinaia di illustratori io ho avuto la fortuna di poter lavorare bene per una ventina d'anni però quella società l'abbiamo chiusa quindi a un certo punto hai deciso di passare proprio la tua arte che è come possiamo definire la tua arte che cosa in questo caso parliamo di ambiente ma di solito è sempre così la leggo molto a quello che mi succede intorno per cui è emotiva direi arte emotiva arte fattuale quasi sì anche espressiva a volte però anche impressionista io ho una tecnica mia siccome non ho uno spazio dedicato al alla pittura io faccio questa cosa che non so se la farà qualcun altro però dipingo molto mentalmente ma dipingo proprio mentalmente cioè mi metto con la tela bianca e dico uso questo colore faccio questo colore meglio quest'altro pennello per cui in realtà quando poi produco l'opera fisica la faccio in pochissimo tempo Eva lo sa perché ha un vernissage sempre alla parte ho fatto un'opera da in un'ora ah l'hai fatta proprio lì al vernissage sì sì però ho studiato alto che vernissage nella mia mente sì mi metto proprio come mi metto e la immagino la immagino e la dipingo poi una volta che è finita naturalmente a quel punto poi un attimo tra virgolette un attimo sì è proprio sulla tela sì Giorgia Bolli Gallery è il tuo profilo Instagram giusto lo stavo guardando in questo momento è il mio profilo Instagram lo stavo guardando in questo momento perché appunto chi magari si domandasse questa tecnica quale è che cosa fa appunto qui ci sono i suoi disegni allora per poter fare questa cosa in brevissimo tempo in uno spazio che non è dedicato faccio anche degli acquarelli ma utilizzando sì utilizzando il dual paint che sono degli acquarelli dei pennarelli acquarellabili e poi uso gli acrilici perché gli acrilici si asciugano in un tempo istantaneo non so come dire quasi addirittura mentre non è ancora finito di utilizzarlo questa è la mia tecnica chiaro 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 fatevi un giro appunto sul profilo Giorgia Bolli Gallery perché appunto c'è tutti i suoi quadri si può vedere un po' quello che fa pittrice illustratrice e ritrattista così appunto si definisce nella sua ah sì i ritratti mi piacciono un sacco i ritratti è la mia parte vediamoli vediamoli c'è qui anche classica e tradizionale però mi piace prendere quell'attimo in cui le persone guardano fuori dal quadro ah interessante interessante hai fatto anche arte sacra vedo qua ma sì anche adesso onestamente la vita del pittore spazia spazia ma non solo è anche un po' misera se non hai se non hai chi ti mantiene in questo caso io devo ringraziare il mio marito egiziano che su questa cosa mi guarda ogni tanto un po' così ma mi lascia fare ecco meno male meno male che c'è sempre qualcuno beh insomma i primi fan devono essere proprio loro e che possono supportare e sopportare appunto anche le vene artistiche di noi altri però c'è un ragionamento sulle opere sacre quando me le hanno proposte io ho cercato un po' l'iconografia è vero non basta andare a scuola dalle suore perché l'iconografia sacra è infinita e poi ho pensato che mi stavo perdendo in un mare di rifacimenti no? quelli che sembravano un po' bizantini piuttosto che quelli che sembravano sempre un po' rinascimentali e io ho pensato che nel rinascimento chi dipingeva l'arte sacra la dipingeva per quello che era lo stile del momento ah sì non aveva dei riferimenti esatto per cui io ho dipinto come avrei dipinto l'arte sacra oggi bene interessante appunto fatevi un giro su Giorgia Bolli Gallery andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo appunto per capire bene che cosa succede domani ore mi dicevi inizio ore 17 ore 17 domani appunto il denisage della quinta edizione di Ambientarti allo spazio Abarth via Passo Pordoi via Passo Pordoi ho parato memoria qualcosa dai bene andiamo con un po' di musica Cool and the Gang con Celebration e poi torniamo qui appunto con Evamos e Giorgia Bolli e parliamo appunto ancora della quinta edizione di Ambientarti qui su Cristian Radio Good Morning Milano 96.2 FM Dub Plus apriOS sito tutto quello che volete sempre qua in diretta fino alle 9 avanti con Cool Gang the Celebration Max Pezzali discoteca abbandonata invece noi non vi abbiamo abbandonato siamo ancora qui in diretta su Cristian Radio a Good Morning Milano 8 e 34 minuti di oggi martedì 14 maggio grazie mille a Ambrogio che ci ha scritto al 33178535661 ho sbagliato il numero non mi ricordo più il numero di telefono non vabbè fa niente lo sapete voi comunque qual è il numero Celebration il brano che ho fatto prima dice Ambrogio dice il brano fu suonato nel 1981 per dare il bentornato a 52 americani liberati dopo essere stati ostaggio in Iran quella storia lì molto interessante dell'ostaggio in Iran pensate che gli ostaggi furono 52 diplomatici americani tenuti in ostaggio dal 4 novembre del 79 al 20 gennaio del 81 c'è un film bellissimo che si chiama Argo con Ben Affleck regia di Ben Affleck che racconta benissimo questa storia così diteci un'occhiata non è male è una di quelle storie veramente assurde del nostro secolo ma che vanno raccontate e poi ovviamente la solita americanata in certi punti però è quello non possiamo farci niente ahimè però la storia è molto interessante invece torniamo a ambientarti domani 15 maggio il Vernissage alle ore 17 inizia alle ore 17 finisce poi alle ore 20-30 perfetto Abarth via Passo Pordoi giornata su di Milano tra Corvetto Lodi e la Fondazione Prada che cosa vedremo però allora quello che ti ho già anticipato prima ci sarà la performance di danza dello studio di danza alle toalla di Ilaria Echinello e mentre alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale della mostra con me poi con la consulente artistica Elisabetta Roncati che penso che abbiano già conosciuti l'ascoltatore di Tristallarabio sta qua più di una volta con noi quindi un saluto Elisabetta Roncati sì e abbiamo inoltre partner fantastici terre di oltre Po sembra di vino qua si beve si beve anche ok si beve anche metodo classico mi raccomando ok e poi abbiamo anche l'IPU sezione di Milano che parleranno dell'importanza della della protezione di uccelli sono uccelli le italiane sono uccelli appunto beh quando si parla di ambiente si parla ovviamente anche di quello quindi molto interessante appunto che ci sono anche loro a raccontare un po' quello che faranno poi cos'altro abbiamo ci sono premi non premi no quasi venivano fatti c'è una cerimonia di primazione bravissima ok di 7 artisti vincitori che non posso ancora non possiamo dire non possiamo dire quindi se venite siete tutti benvenuti e scoprite tutto oltretutto potete anche chiacchierare con gli artisti molti artisti verranno anche dall'estero dalla Svezia in Norvegia poi dai cosa abbiamo fammi un Eurovision anche tu dai Grecia Grecia sì allora Regno Unito però non so se verrà l'artista e poi cosa Austria Albania Argentina Argentina pure anche da d'oltre oceano arrivano insomma c'è di tutto l'Argentino è quello che arriva da più lontano forse no o c'è qualcuno ancora più lontano allora il punto è che lei arriva da più lontano ma in realtà abita a Milano ah va bene ok si è vantaggiata negli anni diciamo si è vantaggiata negli anni appunto per riuscire ad arrivare più vicina e Giorgia tu sarai di domani anche tu ci sarai immagino giusto sì ok e sarà bello poter chiacchierare con te cioè potremmo farti un po' di domande no ti capita spesso magari di chiacchiare davanti alle tue opere quali sono le curiosità che ti chiedono allora sì negli anni ho incontrato diversi artisti con qualcuno ci seguiamo anche su Instagram ci incontriamo spesso tutte le volte è un po' una una festa una festa specialmente con un ragazzino che è cinese che si chiama Yahoo si chiama credo si dica ma ha partecipato alle ha partecipato alle tue mostre e quello famoso dei quadri gialli ah sì quello che abita a Firenze giusto quello che abita a Firenze ho capito che strano un cinese che abita in Toscana no perché c'è l'accademia no no scusa ah ok scusate pensavo fosse qui a studiare ci sono tantissimi ragazzi cinesi che studiano lì proprio a Firenze cioè attira tantissimo la città vabbè in più poi infatti c'è perché c'è un'accademia dicevate no non è l'accademia lì benissimo ok insomma è il vostro sudalizio che va avanti da un po' di anni da quanto ho capito conosciamo adesso bisogna fare due calcoli ma 6-7 anni sicuro 6-7 anni sicuro ho visto il profilo appunto di Giorgio il profilo Instagram che insomma saltano fuori poi le mostre di Eva quindi con Giorgio abbiamo fatto anche live painting cioè durante la ti ricordi quando hai fatto magari un anno fa era Dream Arts Dream Arts ok sì circa un anno fa è un Dream Arts sì forse credo di sì 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 ho fatto un live painting ed era comunque incredibile perché lei era di solito parla tanto comunque molto e lì era in trance sì in trance che lavorava concentratissimo sì 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 perché ho quel momento che è poi concentrato in perché giustamente come dicevi prima c'è una vita piena di impegni piena di cose da fare poi devo concentrare il momento artistico in un determinato momento e quindi quando arriva arriva non so come dire tra l'altro poi io preferisco gli acrilici perché ho provato a utilizzare l'olio ma l'olio lascia dei tempi mortissimi ok di asciugatura di si allungano i tempi si allungano i tempi e io in quei tempi che sono morti non so come dire dico questa cosa potrei averla fatta così questa cosa non è il mio la critica non ti dà modo di rimorsi no rimorsi con la critica è finito fine è finito fine sì non mi dà neanche come fare live painting però davanti a un pubblico cioè comunque la gente ti vede mentre stai facendo quella roba allora io sono evidente una donna un po' vistosa ma sono vistosa anche nelle idee nel rapportarmi con le persone meglio vistosa che esibizionista sono una che sì no esibizionista meglio vistosa però ho sempre un'opinione su qualsiasi cosa mi espongo anche tanto no per cui in realtà credo si dica una donna intelligente credo si risponda grazie a volte si dice anche ingombrante dipende no dipende a chi non è capace di accettare l'intelligenza altura però in quel momento come ha detto lei mi sono concentrata sapevo quello che dovevo fare e ho fatto ho avuto anche del tempo per girarmi la mostra andare in giro delle cose ma non so se ho reso l'effetto di quello che avevo in testa non so non so se la gente ha capito che io stavo dipingendo un attimo o pensava che andassi un po' a casa questa roba non l'ho chiesta sin dall'inizio non sapevi cosa uscirà fuori cosa come tu sai sono arrivata con il quadro per portarmi avanti sono arrivata con il quadro tra l'altro sul mio profilo c'è quel quadro rosso in piena disperazione sono arrivata con uno fondo rosso sul fondo rosso non ho neanche fatto un disegno a matita cioè sono partita sono partita proprio avevo in testa di fare questa cosa qui wow è una persona che si tendeva in testa giusto sì uscivo da una situazione tra il 2019 e il 2020 che era una situazione familiare molto pesante familiare della mia famiglia di origine molto pesante e in qualche maniera non potevo tanto espormi nel senso che non potevo confidarmi perché le cose stavano assumendo delle connotazioni veramente pesanti che hanno uno strascico tuttora è molto interessante questo e in qualche maniera molta gente l'ha vissuta come una mia cosa molto superficiale l'allontanamento c'è chi si è allontanato mi sono allontanata io e tutto questo è vissuto in maniera molto superficiale mentre invece il mio momento personale emotivo era un momento anche un po' drammatico questo è il risultato è interessante ma appunto che il risultato diventa un'opera d'arte quindi c'è una è proprio terapeutico anche personalmente molto probabilmente ma certo molto per me assolutamente nel senso che poi la famiglia richiede un impegno ed è un impegno in cui non puoi riversare addosso tutta una diarrea emotiva ai figli al marito e alle persone che stanno in tour ma questo fa capire anche come poi certi artisti in realtà fanno arte non e giustamente sia così anzi spero sempre sia così non per chi la vede quell'arte ma per se stessi cioè l'arte è un'espressione personale poi se piace meglio se qualcuno te lo compra meglio ancora ma nel senso è un bisogno quasi a volte non è diciamo che il mio è proprio l'esbordo da quello che riesco a gestire arriva qualcuno dalla Grecia mi dicevi come? abbiamo anche un greco abbiamo una greca un artista greca l'hai già visto cosa porta? sì certo cosa porta? un paesaggio dove non c'è l'acqua la terra che diciamo brucia un deserto quindi molto attuale te lo chiedo perché la prossima canzone è la canzone che è andata all'Eurovision Song Contest di quest'anno presentata dalla Grecia appunto questa è Zari che appunto ci ascoltiamo qui su Crystal Radio alle 8.44 minuti la Grecia all'Eurovision Song Contest domani invece la Grecia all'ambientarti da Suzanna Suzanna si chiama Suzanna benissimo ok allora domani potete incontrare un po' di Grecia se non sapete come attaccare i bottoni di te però non era male la canzone all'Eurovision come faceva? faceva così se vi state chiedendo come mai non ha vinto la Grecia all'Eurovision beh questa era la canzone no no come era Eva? insomma no ti piace non lo so è un po' tunz 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 però un po' così nel frattempo invece io e Giorgio siamo persi nei ricordi di una gioventù di 90 qua a Milano dove c'era una scena musicale che era pazzesca mi ha tirato fuori dei nomi di gruppi che non erano di Milano ma vivevano la Milano musicale dell'epoca del 99 post di Milano Magretta di Pittura Fresca mi ha tirato fuori mi ha tirato fuori delle robe tutto perché stanno parlando di Casino Royale invece che sono milanesissimi e poi insomma è arrivata un po' questa onda qua onda che sicuramente si va a risentire anche nell'arte di oggi speriamo almeno ricordiamo bene cosa succede domani al spazio Abarth in Passo Bordeaux domani ci sarà l'opening della mostra Ambientarti 5 con partecipazione di 40 artisti internazionali che si svolgerà dalle ore 17 fino alle ore 20 30 presso la galleria Bart Milano in via privata Passo Bordeaux 7 quindi vi aspettiamo tutti numerosi potete registrarvi per venire alla mostra mandandoci una mail artsartspace a chiocerogmail.com e già abbiamo tantissime prenotazioni per domani ci sarà anche l'aperitivo offerto dal nostro partner da uno sponsor terra di oltrepo Ah bene pure anche le bollicine l'oltrepo Giorgia mi hai detto che non è la prima mostra che fai con Artspace ma come mai questa recidiva come mai sempre Allora in realtà è perché come dicevo prima tra gli artisti si crea anche un rapporto gente che è venuta alle prime mostre qualcuno ed è una maniera anche di incontrarsi ed è anche una maniera non so come dire quando ti trovi bene è facile continuare ad avere dei rapporti io credo rispetto a delle cose che magari come capita agli artisti sono più impersonali come le mostre virtuali oppure le mostre tante mostre mi vengono offerte tante mostre all'estero che io veramente non ho la possibilità di partecipare in realtà cioè sembra una cosa che succede a qualcun altro mentre invece qua sul territorio in qualche maniera ci si incontra anche con le stesse persone per esempio anche con Camellia ci sentiamo ogni tanto ci mettiamo i like e le cose così non è che abbiamo dei rapporti di amicizia stretta però i social servono anche a quello per mantenere dei contatti appunto molto interessante perché insomma diventa tutti gli effetti quella che ormai noi chiamiamo community che secondo me è una bellissima parola ma in italiano abbiamo una parola ancora migliore che è comunità cioè diventa quasi una comunità la vostra cioè nel senso l'idea di proprio fare no di fare comunità di fare gruppo di fare no cioè è molto molto bella come cosa di creare dei legami per esempio a me piace molto Instagram da questo punto di vista perché in qualche maniera vengo a contatto anche Instagram come tutti i social c'è là dei logaritmi per cui quando inizi poi a guardare gli artisti ti si propongono gli artisti se è usato bene l'algoritmo funziona esatto ed è anche una maniera di mettersi a confronto con una pittura di altri di dire io per esempio ho una nemesimia personale che è dipingere l'acqua io non riesco l'acqua e le montagne per me sono è difficile se devo fare una cosa del genere dovrei dipingere almeno mentalmente due anni ecco ti dico questo io non so dipingere assolutamente niente quindi diciamo sei già a buon punto nel senso sei già a buon passo quindi bravo pensa a chi sta peggio di te quando pensi a quelle cose siamo in chiusura allora Eva grazie mille di essere qui con noi grazie Giorgia ricordiamo appunto domani alle 17 spazio Ab Art ambientarti quinta edizione quinta edizione bene bene sappiamo già cosa ci sarà dopo la prossima edizione la prossima edizione la prossima mostra sarà dedicata all'acqua quando? tra novembre e dicembre come mai questa lunga pausa? questa lunga pausa diciamolo dai si può dire in radio dai manca poco devo dire dillo tu cosa succede ad agosto? che ad agosto arriverà un aiutante diventi mamma di come se l'abbiamo chiamato che non mi ricordo Leonardo Leonardo se non sa dipingere povero Leonardo cosa gli fai farà l'ingegnere se non sai no perché Marco non sa l'ingegnere c'è il papà credo che sia l'ingegnere giusto? ecco lui non sa dipingere scusa di ingegneri ne basta uno in famiglia diciamo non cerchiamo quando metti al mondo i figli come ho detto a Eva è un'avventura è un'avventura può essere anche che la creatività la metta nella scrittura infatti nella musica la creatività sicuramente sicuramente di creatività ne vedrà tanta con Eva che suona dipinge tantissime cose grazie mille Eva ancora grazie Fabio auguri complimenti congratulazioni non so come si dice in questo caso ci risentiamo ad agosto per farci gli auguri grazie Giorgio ci vediamo domani grazie a voi ad Abarth l'apertura della quinta edizione di ambientarti grazie mille ancora una canzone e poi torniamo qui per i saluti 8 e 56 minuti di oggi martedì 14 maggio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano ebbene siamo arrivati alla fine ma non prima di dirvi che dopo di noi dopo il giornale radio intorno alle 9.05 va in onda senti questa con Ambrogio Curti come sempre la grande musica nazionale e internazionale raccontata dalla bravissima e competentissima voce di Ambrogio che oggi ci ricordava come Celebration ad esempio fu usato anche come brano per dare il bentornato ai 52 ostaggi rimasti in Iran fino a 1981 insomma tanti aneddoti ti racconta la musica ma te la fa anche ascoltare cosa volete di meglio alle 9.05 senti questa se invece domani siete liberi nel pomeriggio alle 17 c'è la presentazione il vernissage l'apertura l'inaugurazione chiamatela come volete sta di fatto che inizia Ambient Arti quinta edizione ad Abarth a cura di Art Space di Eramus di tutti 40 pass artisti da tutte le parti del mondo appunto che spongono in questa Ambient Arti edizione numero 5 appuntamento a domani dalle 7.09 qui in diretta su Crystal Radio con una nuova puntata di Good Morning Milano come sempre noi vi diamo la sveglia come sempre voi fatela insieme a noi la mattina insieme a Crystal Radio insieme a Good Morning Milano ciao a domani